Spiagge deserte, città con traffico ridotto al minimo, scampagnate di Pasquetta annullate. In Italia per il secondo anno la Pasqua resta chiusa per frenare la pandemia. Controlli intensificati per evitare assembramenti e posti di blocco sulle strade. Sono ancora 11, le regioni con un RT sopra l'1. Nelle ultime 24 ore oltre 21.000 nuovi positivi con 376 vittime. Il tasso di positività è sceso al 5,9%. Le festività pasquali però non fermano la macchina organizzativa dei vaccini. Previsti nei prossimi giorni la consegna di 8 milioni di dosi. L'obiettivo resta quello di arrivare per fine mese a 500.000 somministrazioni al giorno. L'Olanda intanto ha deciso di sospendere per tutte le fasce di età AstraZeneca dopo la decisione di bloccare l'uso del vaccino anglo-svedese per chi ha meno di 60 anni. Sarebbe stata sventata una congiura di palazzo in Giordania contro il re Abdallah II. Arrestate una ventina di persone tra cui il fratellastro del monarca, il principe Hamza bin Hussein. Sono confinato in casa, ha detto Hamza in un video inviato alla BBC sottolineando che nel paese prevalgono corruzione, incompetenze e molestie. Mi hanno tolto internet e conclude probabilmente questo il mio ultimo messaggio. L'Inter vince anche a Bologna e si avvicina alla conquista dello Scudetto. Il vantaggio sul Milan, ieri fermato sull'1-1 dalla Sampdoria di 8 punti con una partita in meno quando mancano 9 giornate al termine del campionato. Solo un parri per la Juve nel derby con il Torino. Vittorie importanti in chiave Champions League per Atalanta, Napoli e Lazio rispettivamente contro Udinese, Crotone e Spezia. Buongiorno, buona Pasqua e benvenuti alla prima edizione del telegiornale della Sette. Dunque forze dell'ordine schierata in campo per i controlli per questa Pasqua, la seconda, con forti restrizioni che dureranno fino a domani. In una situazione in cui i contagi sembrano rallentare molto lentamente ma la situazione rimane comunque di preoccupazione per quanto riguarda il sistema sanitario in particolare le terapie intensive che scontano un po' la risalita dei contagi dei giorni scorsi. Vediamo. Chiusi a casa o quasi non si può uscire dal proprio comune o fare la classica gita fuori porta tra le concessioni un pranzo ristretto con pochi parenti o amici. È la seconda Pasqua consecutiva nel segno del lockdown, una stretta sulle abitudini di sempre, un sacrificio collettivo di fronte a un virus che non molla la presa. La stretta di Pasqua risposta dal nuovo decreto anti-covid è scattata ieri e durerà fino a lunedì. Tutta l'Italia è rosso per arginare la pandemia, città con traffico zero, strade vuote, controlli, autocertificazioni in tasca per gli spostamenti. 70.000 agenti sulle strade. Dai dati del bollettino di ieri nessun deciso segnale di inversione della tendenza. 21.261 nuovi positivi, 359.214 tamponi, il tasso di positività al 5,9%. Cala di un poco anche il numero dei morti, 376, quasi 100 meno del giorno prima, ma preoccupa la pressione sulle strutture ospedaliere. Ancora il leggero aumento le terapie intensive, 10 in più nel saldo tra ingressi e uscite. In flessione i ricoveri nei reparti ordinari, con 215 unità in meno. La regione con più casi giornalieri è la Lombardia, con più 4.132 nuovi positivi e quasi 100 morti. In totale i casi da inizio epidemia sono quasi 3.700.000, i morti quasi 111.000. E dunque adesso l'obiettivo è quello di spingere più che mai sulle vaccinazioni, vaccinazioni che non si fermeranno in questi giorni di festa e si moltiplicano i luoghi in cui ci si può immunizzare, addirittura in Sicilia, nelle parrocchie. E poi c'è anche la questione da affrontare del vaccino AstraZeneca che continua a creare preoccupazione. Vediamo. Si vaccina senza sosta anche a Pasqua, in attesa dell'arrivo di 8 milioni di dosi entro questo mese, tra cui anche il vaccino monodose Johnson & Johnson. 2.066 i centri vaccinali in tutta Italia, comprese le 300 parrocchie che hanno aderito in Sicilia, ma sono stati solo 4.000 gli anziani dai 69 ai 79 anni che si sono vaccinati ieri, secondo i dati della regione, diffusi in serata. Oggi e domani nel centro di Roma, la nuvola, saranno somministrati 50.000 vaccini. Tra due settimane saremo a 300.000 dosi al giorno, ha dichiarato il commissario per l'emergenza Figliuolo, per arrivare a fine mese a 500.000 al giorno, mettendo subito in sicurezza, dopo gli over 80, anche le persone con più di 70 anni e di età. Il sistema sanitario soffre, ma siamo al giro di boa, dice Giovanni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute. A ridosso dell'estate arriveranno altri due vaccini. Vaccinando molto e in fretta, si fermano anche le varianti. Con la protezione dei fragili, la pressione sugli ospedali diminuirà e si potranno immunizzare i giovani amplificatori del contagio. Accelerare il più possibile, nonostante la campagna vaccinale, abbia subito ritardi nell'approvvigionamento delle forniture dei vaccini, con regioni che temono di restare senza dosi. Tra i nodi da sciogliere, anche quello che riguarda il vaccino AstraZeneca, in Sicilia sono 11.000 le disdette di chi aveva una prenotazione con il vaccino anglo-svedese. Gli inglesi hanno dimostrato che i benefici sono nettamente superiori ai rischi, ha spiegato Rezza, però gli eventi avversi rari di trombosi che hanno indotto altri paesi a interrompere le vaccinazioni sotto i 55-60 anni di età, non vanno sottovalutati. Vedremo se l'EMA si pronuncerà su particolari categorie o sotto-categorie cui prestare maggiore attenzione, ha affermato il sottosegretario della salute Sileri, ma AstraZeneca resta un vaccino sicuro. AstraZeneca che è stato utilizzato in maniera quasi esclusiva in Gran Bretagna, dove adesso c'è stato un drastico calo dei decessi che sono appunto crollati e anche e soprattutto dei nuovi positivi giornalieri. Però sono diversi i paesi che hanno preso dei provvedimenti, certo temporanei, ma che comunque li hanno presi. L'Olanda ha sospeso temporaneamente l'uso del vaccino AstraZeneca per tutte le età. La decisione è arrivata ieri, tecnicamente per non sprecare dosi. Due giorni fa infatti le autorità locali avevano reso pubblico che non avrebbero iniettato il prodotto agli under 60. Tra gli over 60 rimanevano così solo 700 persone. Il gruppo si sarebbe disperso in 70-80 centri. Ciò avrebbe significato nel corso dei giorni un numero troppo esiguo di persone per aprire una singola fiala che contiene dalle 10 alle 12 dosi. L'Olanda dunque si allinea con la Germania in aperta opposizione alla scelta fatta dall'Agenzia del Farmaco Europea che dopo la prima tornata di sospensioni del vaccino di AstraZeneca in diversi stati membri aveva studiato il prodotto sottolineando che non aveva trovato riscontri oggettivi tra i casi di trombosi insorta in alcuni soggetti dai 7 a 10 giorni dopo l'inoculazione. Il blocco olandese è di fatto una battuta d'arresto per tutta l'Europa che lamenta una carenza endemica di approvvigionamento soprattutto dalla compagnia anglo-svedese con la quale è da tempo arrivata le minacce. Fare a meno di AstraZeneca significa infatti allungare i tempi verso il raggiungimento dell'immunità di greggie proprio nel momento in cui il vecchio continente è travolto dalla terza ondata con numeri di contagi e morti record e nuovi ferrei lockdown. L'efficacia del vaccino infatti non è in discussione. Lo ribadiscono ancora una volta i dati che arrivano dal Regno Unito nazione che si sta immunizzando quasi interamente con il prodotto AstraZeneca. Il numero dei decessi per Covid dal contrario del resto d'Europa è ai minimi dal 14 settembre del 2020. Ieri solo 10. Londra ha usato 18 milioni di dosi e secondo l'Agenzia del farmaco locale ci sono stati 30 casi con coaguli nel sangue che hanno portato alla morte di 7 persone. La Brescia intanto si indaga sulle due Molotov che sono state lanciate contro un centro vaccinale il secondo atto intimidatorio dopo quello contro l'Istituto Superiore di Sanità e Franco Locatelli del Comitato Tecnico Scientifico chiede chiarezza troppi di noi sono appunto minacciati. Vediamo. Per la procura di Brescia il lancio di due bottiglie incendiari all'alba di ieri contro una tenso struttura del centro vaccinale di via Morelli a Brescia a finalità eversive l'inchiesta è affidata a un magistrato dell'antiterrorismo. Le indagini si concentrano sul mondo dei Novax e sull'area anarchica mentre i carabinieri lavorano per identificare un uomo ripreso dalle telecamere di sorveglianza mentre scappa a piedi all'alba forse c'era un complice da aspettarlo in auto dall'altra parte della strada. Solo una delle due Molotov è andata a segno infiammando una parte del telone cerato l'altra si è spenta a terra nessun ferito danno strutturale solo un ritardo di mezz'ora nell'avvio delle vaccinazioni le mille programmate sono state regolarmente effettuate. Realizzato con le donazioni raccolte dalla fondazione Aiutiamo Brescia da settembre era attivo come drive-thru per i tamponi nelle ultime settimane la conversione in polo vaccinale anti-Covid. Per la Ministra per gli affari regionali e le autonomie la Bresciana Maria Stella Gelmini questo atto eversivo è una spia pericolosa che non va sottovalutata i nostri sanitari e coloro che somministrano le dosi devono sentire lo Stato dalla loro parte ha detto la Gelmini annunciando che il centro vaccinale sarà sorvegliato dall'esercito. Solo due settimane fa l'incendio al portone dell'Istituto Superiore di Sanità a Roma anche qui indagano i magistrati dell'antiterrorismo dopo una rivendicazione apparsa su un sito vicino alla galassia anarchica. Sul fronte politico l'obiettivo del Premier Mario Draghi è quello di vaccinare tutti gli oltra settantenni e riportare gli studenti in classe queste le priorità del Premier che in settimana vedrà anche Salvini ma a tenere banco nelle ultime ore sul fronte politico è stato un vero e proprio scontro nell'ambito del governo sul caso Biot mentre dall'opposizione Giorgia Meloni chiede che il Premier riferisca in Parlamento. Il caso Biot il capitano della Marina Italiana che vendeva segreti Nato e Russi accende lo scontro tra il Partito Democratico e la Lega L'attacco arriva dal deputato Andrea Romano che tira in ballo il leader leghista Matteo Salvini deve chiarire al più presto i rapporti fra la Lega e Alexei Nemudrov uno dei due diplomatici russi che coordinavano la rete spionistica a cui Walter Biot riportava le parole del deputato vicino al Ministro della Difesa Lorenzo Guerini citando l'inchiesta di Repubblica che ha ripercorso i rapporti tra Nemudrov e Gianluca Savoini ex portavoce di Salvini che da uomo dell'Associazione Lombardia-Russia è stato protagonista di un dossier che dal 2019 quello degli incontri dell'Hotel Metropol e delle inchieste giornalistiche pesa sul leader della Lega che infatti replica con durezza con la formula indiretta fonti Lega su Biot è Enrico Letta che deve chiarire dicono le fonti l'unica certezza in questa brutta storia è che Biot lavorava al Ministero della Difesa col Ministro PD la Lega insomma attraverso il richiamo a Letta prova a colpire Guerini offrendo una sponda a Giorgia Meloni che rilancia Draghi riferisca in Parlamento sul caso Biot scrive in una nota abbiamo già inviato la richiesta ai presidenti delle Camere ma non abbiamo ancora avuto risposta per il governo è lo stesso Guerini a rispondere se qualcuno ha sbagliato i comportamenti saranno sanzionati con severità ma quelli non sono i valori di riferimento delle forze armate credo che questo sia nella coscienza degli italiani ha detto il Ministro visitando un hub vaccinale e provando così a circoscrivere un caso che da un lato imbarazza il governo e la difesa in particolare dall'altro chiude una stagione di ambiguità a luci e ombre rispetto alla collocazione atlantica perno dell'azione del governo Draghi Papa Francesco ha celebrato la veglia pasquale per la seconda volta con le limitazioni dovute all'emergenza Covid la cerimonia che festeggia la resurrezione è stata anticipata alle 19.30 e celebrata davanti a poche persone senza i tradizionali battesimi ma Papa Francesco ha voluto mandare un messaggio di speranza e di fede è possibile ricominciare sempre perché c'è una vita nuova che ci fa ripartire al di là dei nostri fallimenti anche dalle macerie del nostro cuore Dio può costruire un'opera d'arte anche dai frammenti rovinosi della nostra umanità Dio prepara una nuova storia le parole di Bergoglio andiamo adesso in Giordani dove sarebbe stato sventato una congiura di palazzo tra le persone arrestate anche il fratellastro del monarca vediamo cosa è successo da questa mattina sono confinato in casa non posso uscire né comunicare con l'esterno molte persone che conosco sono state arrestate il mio capo della sicurezza è stato rimosso mi hanno tolto internet probabilmente questo è il mio ultimo messaggio parla così il 41enne principe Hamzabin Hussein in questo video inviato alla BBC dopo l'arresto assieme a una ventina di persone con l'accusa di aver ordito una congiura di palazzo contro Reab dalla Secondo di Giordania del quale è il fratellastro per riottenere il trono che gli era stato tolto nel 2004 a suo dire nel paese da 15-20 anni prevarrebbero corruzione incompetenza e molestie la situazione starebbe peggiorando siamo al punto in cui nessuno può esprimere opinioni su qualsiasi cosa senza essere vittima di bullismo arrestato e minacciato ma pur confermando il suo coinvolgimento nel tentativo di colpo di stato Hamman nega ufficialmente l'arresto come noto i Stati Uniti considerano la Giordania fondamentale per mantenere la pace in Medio Oriente riprendendo le voci dell'intelligenza americana il quotidiano The Washington Post scrive che la polizia segreta giordana si sarebbe presentata all'esterno della villa del principe Hamza e gli avrebbe imposto di rimanerci insieme con la moglie Basman il comandante delle forze armate giordane generale Yusuf Huneiti spiega in un comunicato che all'ex erede al trono sarebbe stato richiesto di astenersi dagli spostamenti ed altre attività che potrebbero essere sfruttate per destabilizzare il regno ascemica le indagini proseguono e a sicura il loro esito sarà reso noto in maniera trasparente nessuno in Giordania è al di sopra della legge che insieme con la sicurezza e la stabilità del paese prevalgono su ogni altra considerazione a sicura al momento la situazione è sotto controllo e il palazzo di Abdallah II protetto da mezzi blindati e militari e andiamo in Egitto dove c'è stata una spettacolare parata per le vie del Cairo per lo spostamento di 22 faraoni 18 re e 4 regine dell'antico Egitto sono stati portati in processione per ordine decrescente di età e trasferiti a bordo di altrettanti carri decorati dalla loro attuale dimora il museo egizio fino al loro nuovo luogo di riposo il museo nazionale della civiltà egizia l'intero tragitto di 7 km era stato chiuso al traffico anche pedonale con imponenti misure di sicurezza e torniamo in Italia con lo sport con l'Inter che si avvicina sempre di più alla conquista dello scudetto pareggio per le inseguitrici Juve e Milan a Bologna l'Inter fa un altro passo verso lo scudetto il nono successo di fila che mancava dal 2007 e il ventesimo gol in campionato di Lukaku condanna Noamiajlovic lanciando i nerazzurri a più 8 sul Milan un vantaggio rassicurante che potrebbe crescere mercoledì nel recupero con il Sassuolo Conte dice intanto grazie a Ranieri la sua Sampdoria blocca sull'1-1 Pioli che a San Siro non vince ormai dal 7 febbraio Quagliarella sfrutta l'errore di Teo Hernandez e con i blu cerchiati in 10 per l'espulsione di Adrian Silva i rossoneri trovano il pareggio soltanto nel finale con Auge e adesso il Milan deve guardarsi dall'Atalanta salita minacciosamente a meno 2 la doppietta di Muriel e la rete di Zapata permettano ai bergamaschi di stendere per 3 a 2 l'Udinese e di staccare in classifica la Juventus frenata dal Torino derby aperto da Chiesa e ribaltato da San Abria che approfitta delle incertezze di Scesni e Kulusevski per l'1-2 che illude i Granata la testa di Cristiano Ronaldo 772 reti in carriera come Romario salva i bianconeri scivolati però fuori dal podio e raggiunti dal Napoli con il Crotone arriva la quarta vittoria di fila dei Partenopei a segno con l'intera batteria di attaccanti Insigne Osimène e Mertens al Maradona la squadra di Cosmi si spinge fino al 3-3 ma Di Lorenzo spazza via gli incubi e qualche sofferenza di troppo facendo sorridere Gattuso e adesso il recupero di mercoledì con la Juventus diventa un vero e proprio spareggio per il quarto posto scatto Champions anche per la Lazio che si impone a fatica sullo Spezia all'Olimpico verde con una splendida rovesciata risponde a Lazzari poi espulso come Correa prima del rigore di Caicedo che all'89 vale il 2-1 e il sorpasso sulla Roma a Reggio Emilia giallorossi due volte avanti con pellegrini dagli 11 metri Bruno Perez e due volte raggiunti da Traore e Raspadori per un sassuolo scavalcato dal Verona Barac e Lasagna condannano il Cagliari alla terza sconfitta consecutiva e sempre in piena zona retrocessione non ne approfitta il Parma solo 2-2 a Benevento nel sabato di Pasqua chiuso dal pareggio tra Genoa e Fiorentina dopo l'1-0 di destro Vlaovic evita a Iachini il KO nel giorno del suo ritorno sulla panchina viola E oggi tutta l'Italia dello sport farà il tifo per Yannick Sinner impegnato nella finale del torneo più prestigioso di tennis quello di Miami Il suo futuro è tutto da scrivere a cominciare dal match che inizia alle 19 a pochi chilometri dal mare della Florida di Sinner possiamo allora nell'attesa vedere il passato per quello che può essere il passato di un ragazzo di 19 anni eccolo allora ricevere un trofeo quasi più grande di lui in Alta Valbadia quando aveva intenzione di conquistare il mondo sopra ad un paio di sci il suo stile in gigante non era male ma poi il suo obiettivo si è spostato sul tennis complice quel Federer che posò con lui in una foto diventata profetica bisogna arrivare al 2013 per vedere il ragazzino venuto dalla Val Fiscalina teatro di grandi battaglie nella prima guerra mondiale a giudicarsi il torneo di Ragusa riservato agli under 12 un evento in cui toccava ai giocatori passare il tappeto fra un set e l'altro ma si fa anche questo pur di approdare alla corte del grande coach Riccardo Piatti e poi realizzare un sogno diventare il talento italiano più luminoso primo torna in Bacheca nell'ottobre scorso a Sofia Sinner aveva 19 anni e due mesi il resto è storia recente con la vittoria di Melbourne e lo strepitoso cammino a Miami quella di stasera non sarà una sfida come tutte le altre però dall'altra parte del campo c'è il suo migliore amico fra i colleghi di ATP Tour il polacco Urkacz con Jannik ha condiviso gli allenamenti e la metà campo negli incontri di doppio ma stasera sarà soprattutto un avversario avversario per di più niente affatto morbido considerando le vittorie conquistate contro i quotatissimi Tsitsipas e Rubliev ma Sinner lo ha già detto a vincere sarà uno soltanto l'amicizia è destinata a rimanere fuori dal campo Ed è tutto per questa edizione il telegiornale torna alle 13.30 ora le previsioni del tempo con Palo Sottocorona e poi a seguire il dibattito di Omnibus condotto da Flavia Fratello vi auguriamo una buona Pasqua Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti